benvenuti a questa nuova lezione di tinkercad oggi vedremo alcune funzioni molto utili quando si modella in 3d nello specifico vedremo le opzioni a linea capovolgi e duplica allora iniziamo subito cominciamo con l'importare all'interno del piano di lavoro un solido un cubo per esempio la cosa più semplice anche quando bisogna costruire una forma un modello che abbia una forma ripetuta penso lo abbiate visto anche con il primo esercizio che avete fatto con la costruzione di un tavolo per le gambe c'erano a disposizione 4 cilindri benissimo in questo caso se io non voglio stare ad importare più volte la stessa forma posso semplicemente andare a duplicarla ora chiaramente nel caso di un cilindro è una forma semplice che tra l'importazione e la funzione duplica diciamo la differenza è relativa però immaginatevi di dover raddoppiare forme complesse dove magari avete dovuto fare delle lavorazioni sicuramente la funzione duplica può essere molto molto utile bene vediamo come funziona allora seleziono il mio oggetto ok e semplicemente eccolo qui o scorciatoio da tastiera control d oppure cliccando sul tasto duplica bene mi direte non è successo nulla in realtà si solo che le forme duplicate vengono sovrapposte quindi se io eccolo qua lo sposto vedete ho esattamente lo stesso cubo bene vi faccio vedere nuovamente cancello i cubi ok importiamo una forma diversa importiamo una piramide ok quindi se voglio raddoppiare la mia forma la cosa più semplice da fare è con il tasto duplica quindi con duplica naturalmente funziona anche se seleziono più di un oggetto ecco qua quindi capite che se devo creare tante forme tutte uguali in questo modo in pochissimo tempo passo da un oggetto a un buon numero avete visto in pochi secondi siamo passati da un da una piramide a 16 piramidi semplicemente con il tasto duplica un'alternativa al tasto duplica quale può essere copia e incolla quindi copio e incollo ve lo incollerà leggermente scostato una dall'altra ok eccole qua anche qui in questo caso la funzione incolla può essere ripetuta molto quante volte volete quindi vi permette di aumentare velocemente il numero dei vostri e dei vostri oggetti andiamo a ripulire il nostro piano di stampa torniamo in home un'alternativa può essere questa sempre utilizzando il tasto duplica allarghiamo un cilindro da tastiera andiamo a dargli una dimensione base 100 e 100 qui come vedete il cilindro è venuto un po squadrato ok quindi proviamo ad aumentare il numero di lati ecco qua per farlo venire circolare importiamo sempre il nostro cubo lo deformiamo e andiamo a provare a costruire un orologio la cosa più semplice da fare per il momento andiamo a mettere le mezzanotte le tre le sei e le nove quindi prima cosa da fare seleziono seleziono duplico a questo punto vado a spostare eccoci qua la mia figura se clicco a questo punto posso selezionare tutte e due cliccare nuovamente il tasto duplica risolvere e semplicemente andare a tramite le frecce eccolo qua a ruotarli a 90 gradi se voglio aggiungere anche le stanghette mancanti seleziono tutte e quattro le mie forme 1 2 3 4 duplico voto tutto di 45 gradi ecco qua la struttura base del mio orologio è stata disegnata una volta disegnato andiamo a creare un gruppo ok eccolo qua del mio orologio a questo punto lo seleziono e in questo momento lo vado a nascondere se vi ricordate con la lampadina si possono nascondere oppure far ricomparire gli oggetti adesso voglio provare a ricostruire questa forma con un altro metodo quindi adesso la faccio sparire in realtà rimane sul mio piano di lavoro semplicemente non è visibile e ricomincio da capo importo nuovamente il cilindro lo ridimensiono con i lati 100 100 aumento come abbiamo fatto prima il numero di lati per farlo ecco più tondo a questo punto lo metto da una parte importo il cubo stringiamolo un po' e alziamolo come vi avevo fatto vedere prima riproviamo a duplicarlo e a spostarlo a questo punto una funzione utile beh sono allineati seleziono faccio all'inizio esattamente quello che ho fatto prima torno a duplicare e li muovo a 45 gradi adesso semplicemente clicco nuovamente duplica e come vedete in automatico il Tinkercad ha continuato a duplicare il mio oggetto spostato di 45 gradi se volete per praticità ve lo faccio rivedere ok selezioniamoli e mettiamolo da una parte scusate torno indietro in questo caso mettiamolo da una parte e ve lo faccio vedere di nuovo si può anche fare importo un cubo andiamo a zoomare faccio il primo duplica in questo caso lo spostiamo bene seleziono ripeto la funzione duplica e muovo di un angolo in questo caso 45 ma l'angolo che volete le mie le mie forme a questo punto senza selezionare nuovamente le forme rimangono come vedete selezionate io non sto cliccando niente vado invece a ripetere il comando duplica ecco qua che le mie forme si sono copiate da sole mantenendo la variazione impostata chiaramente questo può essere molto utile se si vogliono fare dei pattern con un certo angolo per esempio proviamo con il cilindro proviamo a impostare un cilindro piccolo 5x5 per esempio eccolo qua ok andiamo a centrarlo seleziono il mio cilindro lo duplico e lo e lo sposto qua eccolo qua ok questo funziona molto bene naturalmente con i pattern circolari dove c'è un punto che funziona intorno a cui scusatemi ruotano gli oggetti quindi duplichiamo spostiamo stavolta magari di pochi gradi 22,5 la metà e continuiamo a ripetere l'operazione ok come vedete i nostri i nostri cerchi hanno e hanno creato questa nuova questa nuova forma bene quindi ecco qua vi cancello le ultime le ultime due che vi ho fatto solo per farvi rivedere l'operazione a questo punto cosa rimane da fare selezionare le mie le mie stanghette le posso raggruppare e le vado a spostare sopra l'orologio raggruppo anche loro eccolo qua e vediamo se il risultato è più o meno simile al precedente eccolo ora naturalmente a mano libera le stanghette non mi sono venute uguali però come vedete l'operazione più o meno è la solita da qui si vede bene una cosa un orologio è centrato meglio un orologio è centrato peggio questo quando si lavora a mano libera naturalmente è difficile da replicare sempre nel solito modo per questo motivo tinkercad ha una funzione specifica che vi permette di allineare tra loro due oggetti il comando specifico si chiama allinea e adesso ve lo faccio vedere allora teniamo fermo questo che è quello venuto un po' meglio quindi andiamo a nasconderlo nuovamente e focalizziamoci su questo allora adesso naturalmente abbiamo fatto due volte il raggruppa quindi è un oggetto unico a noi ci serve di dividerlo quindi lo seleziono e vado a fare separa eccolo qua questa è la situazione ideale due oggetti questo gruppo e l'oggetto singolo bene allora naturalmente voi potete andare a selezionare la visione dall'alto e la visione ortogonale e cercare manualmente il punto il punto medio e quindi ecco magari anche avvicinandovi e sicuramente si riesce a essere abbastanza precisi probabilmente già così la centratura è buona però facciamo finta che voglio fare tutto molto più veloce quindi non torno levo la visione prospettica scusatemi torno alla visione prospettica sposto i miei oggetti e vi faccio vedere come allinearli in maniera molto molto veloce seleziono tutte e due come vedete qui è comparsa questa icona questa funzione allinea L scorciatore da tastiera L se cliccate sopra intorno agli oggetti compaiono dei pulsanti sono tre per lato quindi a destra centrale a sinistra questo per ogni coordinata cartesiana quindi x y z se clicco sui pulsanti il nostro oggetto si sposta quindi in questo momento io ho centrato la coordinata x dei due gruppi faccio la stessa cosa per la coordinata y eccolo qua e ho la centratura se voglio farlo anche per z in questo caso vedete non ve lo fa fare con il pulsante più basso perché io ho lavorato sul piano di lavoro quindi il punto di partenza dei miei gruppi è già alla stessa altezza quindi non avrebbe senso farlo nuovamente in alternativa posso alzare il mio cilindro ok a metà o in alto eccolo qua oppure lo riporto in basso una volta che ho centrato nel migliore dei modi il mio oggetto posso fare un click fuori eccolo qua seleziono nuovamente e raggruppo quindi come avete visto in maniera molto molto semplice siamo andati a centrare i nostri oggetti la funzione allinea è utile in tantissime situazioni naturalmente una cosa dove potrete ripeterla è nella costruzione del tavolo dove potrete provare a ripeterla torniamo a pulire il piano di lavoro torniamo in posizione home l'ultima funzione che vi faccio vedere oggi è la funzione capovolgi per cui andiamo a costruire molto rapidamente un oggetto asimmetrico ora vi spiego perché asimmetrico semplicemente per vedere meglio questa questa funzione quindi non ho bisogno di una forma troppo complessa mi basta un cubo e una sfera vado a selezionarli e a raggrupparli mettiamoli in primo piano eccolo qua sono diventati come al solito un oggetto unico bene seleziono il mio oggetto e la funzione capovolgi eccola qua è questa che vedete qui in alto accanto ad allinea scorciatore da tastiera M se clicco su capovolgi come prima su allinea erano comparsi tre pulsanti in questo caso compaiono tre frecce queste tre frecce mi permettono di girare ruotare rapidamente il mio oggetto su uno dei tre assi quindi per esempio eccolo qua specchio sull'asse x bene solita cosa posso fare sull'asse y oppure sull'asse z o fare un insieme delle due ok eccolo qua ok con questo si conclude la lezione di oggi e vi lascio con un secondo esercizio in realtà simile a quello della volta precedente vi chiedo sempre di costruire un un tavolo in questo caso però vi fornerò molti molti meno elementi cioè il nuovo esercizio è costruire un tavolo con un cubo ed un cilindro oppure costruire un tavolo semplicemente con un cubo quindi vi ricordo che non potete aggiungere forme dalle forme di base sul menu di destra ma dovete utilizzare le funzioni che abbiamo visto in questa lezione quindi niente di particolarmente complesso diciamo che vi chiedo di ricostruire magari anche il tavolo della volta precedente questa volta però cercando di incorporare le funzioni duplica a linea e capovolgi diciamo il più possibile almeno bene buon divertimento buon lavoro alla prossima grazie